a continuazione faremo un flan alla panna senza uova utilizzando la nostra pectina acid free miscolando una parte di latte e una parte di panna iniziamo versando in una pentola latte e la nostra panna e scaldaremo tutto a 40 gradi che è una buona temperatura per sciogliere correttamente la nostra pectina da un'altra parte la pectina e zucchero che sono insieme po a po si aggiunge alla nostra base scaldata miscolando bene sempre in forma di pioggia e portiamo tutto a pulizione una volta bollito bene versiamo tutto su una garaffa e poi togliamo la schiuma che sia fatto alla base il caramello che già è pronto all'interno di un bicchiere iniziamo versando la nostra miscela sopra il caramello lasciaremo riposare bene sempre una sera in frigorifero prima della consumazione versiamo il nostro flan su un piatto la gelificazione è pronta dopo uno l'esperienza Grazie a tutti.